Nel vedere il mondo ho educato me stesso, letterariamente, intellettualmente, eccetera. Così parlava Giose Rimanelli nel suo ultimo ritorno in Molise a Casa Calenda. Era il 2012, morì sei anni dopo, nel 2018 in America, dove aveva scelto di vivere da alcuni decenni. Oggi finalmente torna in libreria il suo lavoro più importante, uno dei più tragici, violenti, sofferti romanzi di guerra del secondo novecento. Giovedì prossimo esce, edita da Rubettino, una nuova edizione di Tiro al Piccione, libro d'esordio di Rimanelli, scritto a 19 anni e pubblicato per la prima volta nel 1953. Siamo nel 43, Marco Laudato, alter ego dell'autore, abbandona il seminario e torna al paese molisano d'origine, dove anni di conflitto hanno lasciato solo povertà. I camion tedeschi che risalgono la penisola sono l'unica via di fuga verso qualcosa di nuovo, proprio quello che cerca un ragazzo di 17 anni. Marco, senza avere alcuna coscienza politica, si ritrova in mezzo alla guerra civile, che è imperversa nell'Italia del Nord. Dal libro di Rimanelli fu tratto anche l'omonimo film di Giuliano Montaldo, uscito nel 61 e presentato nella versione restaurata tre anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia. Con la pubblicazione di Tiro al Piccione, Rubettino avvia un'operazione editoriale dedicata a Rimanelli che porterà la casa editrice a pubblicare nei prossimi mesi anche Peccato originale e una posizione sociale. Nella nuova edizione, che uscirà giovedì, l'introduzione del libro è curata dalla moglie di Rimanelli, Sherilyn Postman. Il libro, a mio parere, non è un libro politico. Così scriveva Cesare Pavese a proposito di Tiro al Piccione. Non vi esiste il caso del fascista che si disgusta o converte, bensì il giovane traviato, preso nel gorgo del sangue, senza un'idea, che esce per miracolo e allora comincia ad ascoltare altre voci. È una tesi notevole e tale da interessare tutto il mondo e non solo gli italiani.